Musica Benvenuti a tutti Nello speciale 2018 di Halloween di Albert Einstein Anche quest'anno è il mio tuo anno E io sono qui per farvi morire di paura Ho preso i video reali Cosa è accaduta veramente che vi fanno Vi fanno venire i brivi a capolare la pelle perfino Per cui mettetevi le cuffie Spegnete le nuci E buono spavento a tutti 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 E buono spaventi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.